L'aeroporto d'Abruzzo chiude il 2021 con 381.241 passeggeri registrati. Lo scalo a due anni dall'esplosione della pandemia torna a vedere i transiti nuovamente salire, ma rispetto al 2019 fa registrare comunque un calo del 45%. Nel 2019, cioè prima del Covid, i passeggeri totali di tutto l'anno sono stati circa 703.300. Nel 2020 erano stati 173.000 circa. Nello specifico, i mesi con i maggiori flussi sono stati quelli estivi, con un totale da giugno a settembre 2021 di 222.094 passeggeri, pari a un meno 22% rispetto al 2019, quando i passeggeri erano stati in totale 288.068. Nella summer 2021, i mesi più attivi sono stati agosto, che ha registrato 69.076 passeggeri, e luglio 62.900. A causa della pandemia, tra gennaio e marzo 2021, invece, i passeggeri registrati sono 6.911. Se i passeggeri sono in numero minore rispetto al 2019, le destinazioni di questo anno invece sono state numericamente maggiori, commenta il presidente della SAIA, Vittorio Catone. Nel 2021, infatti, la stagione estiva ha registrato 20 collegamenti con città italiane ed europee, a differenza del 2019, quando le città collegate erano 15. Anche la Winter, attualmente in corso fino alla fine di marzo, conta nuove destinazioni con dicembre, che ha visto anche il collegamento in più con Palermo. Il Covid, purtroppo, continua Catone, sta segnando una nuova battuta di arresto, in quanto le compagnie Ryanair, Wizard e Volotea hanno deciso di sospendere per alcune settimane tutti i collegamenti con gli aeroporti regionali, e questo ha coinvolto anche il nostro scalo. Confidiamo però che non appena la situazione dei contagi tornerà a decrescere, il traffico verrà normalmente ripristinato e potremo guardare la Summer 2022 con positività e slancio, promuovendo al meglio le bellezze della nostra regione. Proprio alla luce della sospensione dei collegamenti da parte delle tre compagnie, per il mese di gennaio saranno garantiti due collegamenti per Milano Linate di Ita e un volo al giorno per Bergamo-Orrio al Serio, ad eccezione del venerdì con due collegamenti.